Contratti diversi da quello edile e paga inferiori senza versamenti alla cassa edile, mancata formazione con inevitabili conseguenze sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. La denuncia arriva dalla Filca Cisla di Messina nel corso del suo Consiglio Generale. Una deregulation nell'edilizia che è l'effetto della crisi degli ultimi devastanti anni. E sono i numeri a testimoniarlo. Salari dei lavoratori passati dai 103 milioni del 2008 ai 45 milioni di euro del 2019. Numero degli operai dichiarati dai 14 mila del 2008 ai 6.429 del 2019. Quasi dimezzate anche le imprese attive, 1.681 contro le 2.835 del 2008. Numeri di una crisi che ha portato ad un incremento della tipologia di contratti part-time mascherati, del lavoro nero e dei falsi lavoratori autonomi. Sì, ha affermato Giuseppe Famiano, segretario generale della Filca Cisla Messina, anche nell'edilizia sono arrivati i lavoratori a partita IVA, perché i datori di lavoro sono diventati lungimiranti e pur di non pagare i contributi, costringono gli operai a diventare falsi lavoratori autonomi. In Cassedile si sono registrati circa mille ditte individuali, così nei cantieri la maggior parte dei lavoratori lavora in nero, senza tutele previdenziali ed assicurative, ed i lavoratori, a causa dei loro problemi economici, scendono a compromessi con i datori di lavoro, accettando tutto quello che viene loro riproposto. Hanno importi inferiori a quelli risultati in busta paga. Una denuncia forte è quella della Filca Messinese, che chiede l'intensificazione dei controlli ispettivi. Per contrastare il lavoro nero e diffondere la cultura della legalità e del rispetto delle regole, la Filca Cisla di Messina ha deciso di attivare un numero telefonico al quale inviare un semplice messaggio per segnalare in forma assolutamente anonima l'indirizzo del cantiere che utilizza lavoratori in nero o senza il rispetto dei contratti.